Ciao a tutti ragazzi, siamo su questo nuovo video di Leontube e andremo a fare la rampa, come ho detto nello scorso video, ma che non siamo riusciti a fare? E come potete vedere stiamo già bruciando Appunto Allora Simo, sta scala e da 3 la dobbiamo fare il più lontano possibile da qualche città Quindi facciamoci materiali Simo, facciamoci tutti di più di materiali Sarà duro Va bene Ma lo dobbiamo fare con l'huiplash o con il pick up? Simo, secondo te è meglio farlo con l'huiplash? Sì o no? Magari ha rotto Ah, cacchio Qua, qua, mamma Arriva, 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 arriva Ma dove sono? Ma uno è qua, aiuto Abbandonare la nave Aiuto Sì, uno è tirato Sì, ma non andarla sopra perché si vanno a cadere Mamma Ragazzi Ci so Allora, entri Eh? Ma regolato Eh, è il mio cecchino preferito Io con questo sono una belva Raga Simo, ma ci conviene farlo con l'huiplash? Ma qua c'è un colpo Un colpo Baggato Dove? Credo che c'hanno quelli Ma che Ma è la mia No, non è un colpo Sta qua è la ruota È la mia ruota Ma perché c'è il fumo? È la mia ruota Eh, lo so Lo so È baggata Ma Quindi usiamo l'huiplash? O sta macchina? È uguale Usa questa Ma non qua Ma più lontano possibile Ho detto Sto prendendo Devo prendere la cesta Facciamoci altri materiali Intanto Che te Prendi a cesta No, non c'era Ok, vai sali Ma com'è possibile Che la cesta in centro Ancora La presa Lo presa io Io c'era già Non ti preoccupare Non sto io Adesso Che c'è È veramente devastante Oh, vieni, sì, no E ragazzi Ci vuole anche La tanica di benzina Sali Dai sali Dobbiamo andare Più o meno qua Andiamo Ragazzi Qua ci sarà La lampa Qua 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 Andiamo Sparano Aspetta che No, non ci sparano Vai Ragazzi andiamo Non ce la prenderanno Fai fermo Io devo scendere Da un città Ma perché Perché Così Faccio Stimo vai a morire Ci so Ti posso Ti posso venire A prendere Aspetta che devo Ok, vieni Un altro Ci so anche l'altro Vieni Aspetta che devo Mi porti a prendere Lutti Però devo luttare Soltanto io Poi due Li ho ucciso Io Li prendo anch'io Io ti No ok Ti lascio tutto Andiamo però Ragazzi vi ricordo Mi ero dimenticato Mi ero dimenticato Quasi di dirlo E vi ricordo Di scrivere Riattivando la campanella E di lasciando Un bel like Dai Devo prendere Devo prendere Quella roba Che non so Ma quale roba Ma che cos'è Eh Il colpito Papà Non so che io Con questa Quella arma Sono devastante Non è che È sbilanciata Perché alcuni Non lo sanno Neanche usare Io invece Sono un bio Con quell'arma Se la tolgo Io piango Ragazzi Ma te smetti Di bucare I vetri Dai Vabbè Tranne il mio Che io il mio Lo saprei Bucare Guarda un attimo Simo Aspetta Io Spostati Devo guidare io Simo Guido io No ma Scendi Simo Sono sceso Aia C'è qualcuno Ma dai Non vuoi morire Vabbè Con l'arma sbilanciata Mamma te No Mi hai stillato La filmare No non te l'ho stillata La posso fare io Ok Vai quello che ti No Se ne ho bisogno Di sparare Infatti L'hai certo C'è quella L'ho ucciso Da vicino Col cecchino Aspetta che mi devo fare Un cambiamento Di armi Dai Simo ci dobbiamo Muovere Non dobbiamo Luttare Non ci dobbiamo Mai fermare Ma non me ne frega niente Dov'è A tutti i rischi Io lo devo fare Anche se sono Andiamo a prendere Qualcuno No a me non me ne frega niente L'edrope non l'andiamo a prendere Ok Madonna mia Ci sta anche che troviamo un leva Quindi non ne vale la pena Che troviamo Ecco qua facciamo la scala Simo inizia Versa la safe Ah io vado a prendere l'altro Così ci sono anche materiali Ah lì sto Bravo No tu non lo prendi Perché l'ho visto io E' stata mia l'idea No che non farò Tanto male mi interessa Ma Speriamo che ci sia il pompa leva Oppure lo scar C'è una mitraglietta E io mi sparo Vai ma che sfida Perché abbiamo sempre lanciarazzi Ma perché te lanciarazzi Non lo vuoi Non mi piace Prendi te lo fai Ma come non ti piace lancia Dai Aiuto Aiuto Alcuna Vieni veloce Arrivo Aiuto Vieni ma come un matto Matto Il cuore di galera Ah finito i materiali Eh signora Addio signora Ma non ancora Nel salito ma però Non muorirò mai Perfino No No Aspetta devo fare prima Un'altra cosa Dai Dai Noi